Mazzette per sveltire la macchina burocratica della pubblica amministrazione. Sembra essere la classica vecchia storia di corruzione, quella scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Palermo che hanno arrestato un imprenditore e un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, per i quali il GIP del capoluogo regionale ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, il funzionario regionale, in quanto addetto alle procedure di liquidazione, in cambio di somme di denaro avrebbe fatto in modo di velocezzare i controlli di propria competenze e altre procedure perché venissero eseguiti una serie di pagamenti di fatture per circa 130.000 euro. L'imprenditore, in quanto referente di due aziende edili del messinese, aveva svolto lavori pubblici commissionati da comuni delle province di Caltanissetta e Messina. Dagli accertamenti degli investigatori è emerso che il funzionario avrebbe incontrato due volte l'imprenditore, il quale gli avrebbe consegnato il denaro in tre pacchetti lasciati sulla scrivania e presentati come caramelle. Ora si attende che venga chiusa l'indagine. Grazie a tutti.